Avete presente la classica frase, ma dai lo sistemiamo poi in Photoshop? Beh, credo che siamo arrivati al momento in cui dovremo iniziare a dire, ma lo facciamo con le AI, perché oggi vi mostro come il nuovo modello di Google Nano Banana può davvero rivoluzionare il modo in cui modifichiamo le foto e in alcuni casi persino meglio di Photoshop, e vi assicuro che alcune funzioni vi lasceranno a bocca aperta. Nano Banana è gratuito, accessibile a tutti e soprattutto incredibilmente semplice da usare. Non parliamo di livelli, maschere e strumenti complicati, qui basta scrivere quello che volete ottenere e lui lo fa. È come avere un fotografo, un grafico e un illustratore pronti a esaudire qualsiasi vostra idea. E oggi vi farò vedere 10 esempi concreti che spiegano perché questa AI potrebbe davvero mandare in pensione Photoshop. Primo esempio, rimuovere persone e oggetti di disturbo. Avete scattato una foto meravigliosa, ma sullo sfondo c'è sempre quello con la maglietta rossa che rovina tutto. Beh, con Photoshop servirebbero selezioni precise e un po' di pazienza. Con Nano Banana basta scrivere rimuovi la persona sullo sfondo e la magia avviene in pochi secondi, senza fatica. Perfetto per foto di viaggi, eventi e anche per la street photography. Altro esempio, avete scattato con un obiettivo base e lo sfondo risulta piatto o troppo nitido? Descrivete la scena chiedendo di sfocare solo lo sfondo e mantenete il soggetto nitido e otterrete un effetto bokeh simile a quello di un obiettivo da 1500 euro. Un trucco pazzesco per dare subito un tocco professionale alle vostre immagini. E ora passiamo a questo effetto che è incredibile. Pensate a un paesaggio scattato di giorno. Basta scrivere, trasforma questa foto in una scena notturna con luci calde e un cielo stellato. E ecco che vi trovate davanti a un risultato realistico, come se avete scattato due volte nello stesso luogo ma in momenti diversi. E poi un problema comune nei ritratti con occhiali o negli scatti di prodotto, i riflessi fastidiosi che rovinano l'immagine. Con Photoshop serve lavorare di clone e timbro, spesso con risultati imperfetti. Beh, con Nano Banana basta dire elimina i riflessi sugli occhiali e lui ricostruisce la texture originale senza segni di intervento. E ora c'è il punto che farà impazzire chi lavora nell'e-commerce. Immaginate di avere la foto di una modella e separatamente la foto di un vestito. Nano Banana può unirle, creando uno scatto realistico come se la modella stesse indossando quel capo, senza bisogno di organizzare uno shooting. Funziona anche per il product placement, come aggiungere una lattina tra le mani in una persona per una campagna pubblicitaria. In questo caso inseriamo la foto del prodotto e quello della modella, chiedendo all'e-eye di combinarle insieme. Possiamo persino spingerci oltre, immaginando pose completamente diversi. E lo stesso vale per un prodotto che vogliamo collocare in un'ambientazione specifica. Possiamo caricare la nostra foto oppure lasciare che sia all'e-eye a crearla da zero. E poi possiamo ricolorare vecchie foto in bianco e nero. Questa funzione è perfetta per restaurare ricordi di famiglia. Caricate una vecchia foto in bianco e nero e chiedete, colora questa foto in modo naturale, con toni caldi della pelle e colori fedeli all'epoca. Il risultato sembra quasi magico. Un lavoro che richiederebbe ore di precisione manuale e qui si completa in un attimo. Ma non parliamo solo di correggere, ma anche di creare. Volete aggiungere un palloncino rosso nella mano di un bambino? Basta scriverlo. Possiamo davvero cambiare tutto, persino lo sfondo. Basta scrivere, ad esempio, sostituisci lo sfondo con una spiaggia tropicale all'alba. Oppure, inserisci il soggetto in una città storica o su una crociera, modificando persino la prospettiva. E se non ve ne siete accorti, una delle foto che vi ho mostrato prima era proprio realizzata così. Lo sfondo piatto è stato sostituito con una trafficata strada di New York. E se invece lo sfondo non ci serve proprio, beh, ancora più semplice. Basta chiedere di rimuoverlo completamente. Le selezioni non sono mai state così immediate. E poi, vi è mai capitato che qualcuno vi chiedesse di togliere una persona da una foto? Beh, a me sì. Con questa AI anche questo tipo di lavoro diventa una questione di secondi. Al contrario invece, avete una foto di gruppo ma una persona ai bordi è tagliata a metà? Questa AI può estendere anche l'immagine, ricostruendo la parte mancante in perfetta coerenza con il resto della foto. E poi possiamo creare versioni alternative della stessa foto. In questo caso si carica una sola immagine e poi chiediamo mostrami questa scena in autunno, in inverno, in primavera. E otterremo tre foto diversi con luci, colori e dettagli coerenti. Avete poi girato in una stanza anonima e volete dargli un look più cinematografico? Nano Banana intera gli elementi in modo naturale come se fossero sempre stati lì. E non è tutto perché Nano Banana riesce a mantenere la coerenza di un personaggio permettendoci di immaginarlo in mille situazioni diverse, senza perdere i suoi tratti distintivi. Anche nella parte correttiva si difende davvero bene, qui ad esempio ho chiesto di migliorare la pelle del soggetto e nonostante il limite attuale della risoluzione finale trovo il risultato ottenuto più che buono. Ma a questo punto la domanda è inevitabile, come si fa ad accedere a questo strumento? La buona notizia è che esistono diversi modi per provarlo, sia gratuiti che a pagamento, e ve li spiego subito. Il modo più semplice per iniziare è andare sul sito ufficiale di Google Gemini. Basta accedere con il vostro account Google, aprire una nuova chat, assicurarsi di utilizzare Gemini 2.5 Flash e attivare la casella dedicata alle immagini in basso. A questo punto potete caricare una foto oppure scrivere direttamente il prompt. L'unico limite è che le immagini generate avranno sempre un watermark e c'è una quota giornaliera di utilizzo. Inoltre la risoluzione delle foto restituite è veramente bassa, quindi prendetelo più attualmente come un esercizio che uno strumento utile effettivamente per modificare le vostre immagini. Un'alternativa è Google Iai Studio, una piattaforma web gratuita che permette di creare, testare e integrare i modelli di intelligenza artificiale di Google. Anche in questo caso però c'è il limite giornaliero di utilizzo da tenere presente e la risoluzione scarsissima. Gli ultimi rumor parlano di un accordo tra Google e Adobe per l'utilizzo di Nano Madonna sul Firefly. E questo potrebbe aprire scenari veramente interessanti in futuro, quindi rimanete sintonizzati per le ultime novità. Se invece volete sperimentare senza limiti, al momento c'è una piattaforma chiamata LM Arena che offre accesso gratuito e illimitato senza filigrane. Impostate la modalità Direct Chat, scegliete Gemini 2.5 e siete pronti a generare immagini senza restrizioni. Non sappiamo per quanto resterà gratuito ovviamente, quindi vale la pena approfittare finché dura. Ma la vera chicca per chi cerca uno strumento stabile e davvero professionale è Freepik. È l'unico a pagamento, ma offre vantaggi unici. Con Freepik ad esempio potete scegliere qualsiasi modello per generare immagini e persino video, e con il pacchetto premium non avete limiti di utilizzo. In più avete la possibilità di decidere il formato finale delle immagini e creare più varianti in contemporanea, una funzione che negli altri metodi non esiste. Insomma, a mio avviso è la soluzione ideale per chi lavora ogni giorno con la produzione visiva e vuole il massimo controllo senza compromessi. In ogni caso il processo è sempre lo stesso, caricate l'immagine, scrivete cosa volete modificare e in pochi secondi Nano Banana vi restituisce un risultato preciso e coerente. Insomma, oggi basta descrivere ciò che volete ottenere e in pochi secondi è fatto. Ora ditemi voi, Photoshop ha ancora senso nel 2025? Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se volete altri esempi pratici lasciate un like e iscrivetevi al canale, perché arriveranno presto sicuramente altri video su questo nuovo mondo dell'editing con di AI. A presto, ciao!